Oggi mi trovo all'interno di RGM, elettrotecnica industriale. Siamo vicinissimi a Cremona, nella comune di Castelverde. Mauro Guernieri, amministratore unico. In un momento di così grande transizione energetica, qual è il supporto che può dare il Consorzio di Energy App Industria alle piccole e medie aziende? Il Consorzio di Energy App Cremona, di Confimi, Cremona è nato più di vent'anni fa. Più di vent'anni fa è nato con lo scopo di consorziare delle società appartenenti appunto a Confimi Cremona e trovare il modo per comprare energia all'interno di questo periodo molto difficile. Anche perché ricordiamo le fluttazioni per quanto riguarda il costo dell'energia, specialmente in questi ultimi anni di grande crisi energetica, è stato come non mai negli ultimi 20-30 anni? Assolutamente, negli ultimi due anni sono stati un problema enorme. L'anno scorso abbiamo avuto dei costi energetici che hanno messo in difficoltà tantissime aziende, sia dal punto di vista energia elettrica che dal punto di vista gas. Alcune aziende hanno portato il loro bilancio in rosso purtroppo perché i costi energetici in maniera inaspettata sono decuplicati. Il consorzio API Energia Cremona ha cambiato l'obiettivo. L'obiettivo oggi è quello di supportare le PMI nella transizione energetica. Noi dobbiamo affiancare i nostri consociati in modo tale che possiamo trovare il modo di far comprare nel migliore dei modi al costo più economico, che non è sempre il costo più basso, l'energia. Ma dobbiamo trovare il modo di supportarli di fronte a una transizione energetica che tutti quanti dobbiamo prendere in considerazione al 100%.